Ciao a tutti, sono Ariana Grande e benvenuti in un nuovo video. Ammazza che puzza di pesce qui dentro. Toulouse, baby! Come here! Hi! Cutie! Ultimamente si è offeso perché avevo preso un maialino e lo coccolavo tantissimo. Fortunatamente poi ho rotto il fidanzamento e l'ho cacciato di casa. E' vero che a noi piacciono solo i cani? E' vero, amore mio? Come ti canta sempre Nona? Nel blu dipinto di rosso, i maschi buttiamoli al fosso. You're so cute! Adesso vai fare la papa che oggi a pranzo ha il... Come si dice caviar? Quello. Ok, bye, thank you, next! I'm just like... Sono così stanca di fare interviste? Because like... Tutti mi chiedono... Ariana, com'è essere la donna con il coso più grande del mondo? And I'm just like... Man... Chi ha di a Hillary Clinton? Fuck Trump! Excuse me? Per questo ho deciso di tornare a fare video su YouTube E i miei preferiti sono gli ASMR Non capisco perché le persone credono che sia una cosa seksuale Like... Che c'è di seksuale in questo suono? Like... I don't know Mi ricordo di quando giocavo con il mio maialino Anyway... Oggi sono qui per fare una cover E volevo onorare la cultura italiana Con una canzone che tutti cantano adesso E' di una ragazza che tutti dicono molto talentuosa And I'm like... Yeah... I mean... Donne che supportano le donne, right? Ok... Let's do it! Um... Just let me fare un riscaldamento vocale veloce Ok... Yeah! 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 Sooooww I hope you liked it! E noi ci vediamo al prossimo video E... Iscrivetevi al mio canale And... Yeah! 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 Bye! Bye! Hi everyone! Hi everyone! I'm... Hi everyone! I'm Ariana Grande And you're watching Billboard Ciao a tutti! I'm Ariana Grande! Ciao a tutti! Hi everyone! Hi everyone! Ciao a tutti! Oh! Toulouse! Baby! Come here! Toulouse! Vieni! Vieni! Toulouse! Baby! Baby! Come here! Vieni! Vieni! Paris! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni! Uuuh! Nona! Come ti canto sempre Nona! Amore, hai paura? Hai paura? Ha paura perché io sto parlando in una voce diversa! Nona! 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 Sono... Vai tesoro! Sei libera! Dove sta il cazzo di cosa? Volevo onorare una... E vole... Volevo onorare... Damn shit! Oh... Solo slime ovunque e... Ok?